Musica Musica Ok, cambiato un po' il clima dall'ultima volta che ci siamo visti, stavolta la tenda non l'hai portata spero No, questa volta no Oggi siamo tranquilli, sono qua con alcuni dei membri dei 2T Garage Siamo sempre a rombo di tuono e adesso parliamo di trike Ok, la domanda è, parliamo di trike e i trike non ci sono, ma c'è un motivo, perché non hai portato i trike? Purtroppo dobbiamo dire che su 7 trike disponibili ne abbiamo 6 fuori e uno dobbiamo tenerlo sempre di scorta per i clienti in caso che ci sia una rottura questo è quello che ci sta succedendo, il lavoro va bene, dovevamo scendere e avere anche noi il nostro stand confideremo di averlo per l'anno prossimo, ma perché vogliamo partecipare, vogliamo essere presenti anche noi con i nostri trike in questo bellissimo contesto, in questa bella fiera perché merita di partecipare, merita di essere presenti, merita di farla conoscere con il suo dovuto piacere Allora, prossimo anno, lo diciamo anche a Corrado che vede l'intervista portiamo i trike, lo riempiamo, il motivo è semplice perché sono tutti fuori non voglio dilugare la presentazione perché andate sull'altro video, sempre su Gara School, su Youtube e vedete tutto quello di cui abbiamo già parlato, è inutile ora riparlarne tanto nell'altro video, a brevissimo faremo uno special da loro però ora vi tolgo l'ultima curiosità allora, chi le ha detto che una ragazza non può guidare un trike? tu lo guidi tranquillamente? Lara, giusto? lo guido tranquillamente, è un trike automatico, 140 cavalli quindi automatico praticamente fa tutto lui serve solo avere un po' di attenzione nella guida quindi non è impossibile, quindi ragazze, donne fate una chiamata, venite a provarlo non è impossibile, vi diamo tutte le coordinate per trovarci sui social che sono? ah, dove volete, anzi vorrei fare questo bel invito se mi lasci dite che ci avete visto su Garage, School, TV e avrete già un nostro sconto anzi, vi proponiamo il primo quarto d'ora vi insegneremo a guidare gratuitamente va bene così? cioè, invitiamo anche la nostra cameraman invito te al lato femminile venite a provarlo troverete quella sensazione di piacere di guidarlo avrete Lara che vi accompagna vi insegnerà, vi spiegherà come guidarlo ed è una cosa molto semplice potete trovarci sul nostro sito web 2T Garage sulla pagina Facebook quindi altri social quelli che trovate come dappertutto ci siamo non me li ricordo tutti sinceramente vai su Google 2T Garage qui da Rombo di Tuono Brescia Rock and Roll grazie a tutti a sto